321 nuovi casi di contagio al coronavirus nelle Marche nelle ultime 24 ore. Un numero enorme, un numero che nell'arco di una sola giornata non si era mai visto da inizio pandemia come mai visto è il numero di tamponi effettuati dal Servizio Sanità nella Regione Marche, che in un giorno ha aumentato la capacità di test fino a 3.776 tamponi. 1.707 nel percorso nuove diagnosi e 2.069 nel percorso guariti. I positivi sono 321 tutti nel percorso nuove diagnosi, il che significa che la percentuale di contagiati è ora del 18,8%, ovvero quasi un tampone positivo su 5. Un dato in crescita costante rispetto al 15,2% di ieri e il 9,7% di martedì. Dei 321 casi, 52 sono quelli sintomatici. La provincia di Pesurubino registra 40 casi, più del triplo a Macerata che ne conta 122. Nell'Anconetano 76 casi, nel Fermano 58, nell'Ascolano 23. Aumentano i numeri di tamponi e si conta ora di raddoppiarli con l'utilizzo dei drive point. Sabato riaprirà quello di strada dei cacciatori. Ieri è stato inaugurato un altro test drive a Pian di Meleto per servire una zona insensibile rialzo di contagi fra Lunano, Sasso Corvaro, Frontino e la stessa Pian di Meleto. Subito 100 i test effettuati con monitoraggio alto nel tracciare i contatti avvenuti in ambito scolastico. Intanto tornano a popolarsi le terapie intensive, dove ci sono 20 pazienti gravi nelle Marche, per un dato triplicatosi in pochi giorni. E torna così pressante il problema dei posti letto con il nuovo assessore regionale Filippo Salta Martini, che ha ufficialmente riaperto il Covid Hospital di Civitanova e, purtroppo, tornano anche i decessi. Ieri è morto un uomo di 71 anni di Loreto, contagiato da Covid-19, che presentava un quadro clinico di patologie pregresse. È la 998esima vittima marchigiana di questa pandemia.